E se tutti dicete qui c'è chi che parla oggi sono qui con un episodio di Mario Luigi Paper Jam Nella scorsa puntata abbiamo iniziato il gioco, abbiamo fatto spargere tutti i nemici di carta e anche NPC di carta, hashtag solo Toad Nel mondo normale e voilà, ouch Questo gioco ha molti più modelli 3D, vedo Pianure assolate e castello di Peach, e ora stiamo andando avanti per salvare dei Toad apparentemente, di carta Questo è quello che sappiamo che faremo E voilà Buona Buona E Mario, e stavolta sembra proprio quello vero Beh, tecnicamente anche quell'altro Mario era reale, giusto? Era più sottile ed era strano il modo in cui planava cadendo dal cielo, ma questo lo rende forse meno reale? Comunque, prendiamoli Oh ragazzi, ho appena ricordato un dettaglio importante Quando un nemico vi attacca, noterete un curioso circoletto intorno ai vostri piedi Ah, anzi, sapete che vi dico? Lasciate che ve lo mostri Ehi, ti dispiacerebbe attaccare Mario? Senza offesa, è impossibile che tu gli faccia del male, per questo te l'ho scelto Fermi tutti Mario, guarda i tuoi piedi Quando vedi questo bersaglio rosso, significa che il nemico ti sta prendendo in mira Ecco la tua chance per usare il tuo attacco talento naturale, salta Alt, nessuno si muova Ragazzi, guardate i vostri piedi Questi bersagli tratteggiati indicano che chiunque di voi potrebbe essere attaccato Dovete salvare il nemico con la massima attenzione fino all'ultimo istante Sembra che abbiate imparato bene i fondamentali della difesa Aiuto? No Tuttavia, ho qualcos'altro da mostrarvi Qualcosa di molto utile, l'aiutino Se lo attivate sarà più facile vedere chi ha il bersaglio dell'attacco Usatelo quando non capite l'intenzione di un nemico Ok E il riscaldamento Ehi, avete appena completato una sfida esperto E ogni sfida esperto completata fa guadagnare più punti Che possono essere scambiati con della nuova attrezzatura nel negozio di equipaggiamento Oh, è diverso Toccando qui è possibile vedere la lista delle sfide esperte disponibili Dai, provatene alcune che avete da perdere Non è semplicemente esperienza in più Ok Ok Sì, una cosa che non ho detto Ma adesso durante una qualsiasi cutscene si può premere R e prendere più veloce Cosa che è nuova Wow, incredibile Sembra cosa dell'emulatore ma non lo è Stranamente Questo blocco è diverso da Dream Team Adesso funziona così Probabilmente lo preferisco Nemico di carta Abbiamo affrontati uno così Nella scorsa puntata Ma comunque Si attacca in maniera diversa Principalmente la velocità quella che cambiano Tipo gli stessi attacchi ma Loro sono molto più lenti E voilà Però hanno gli stessi HP probabilmente E siamo quasi a level up E siamo quasi a level up Sì Per entrambi Tra l'altro avete notato? Niente roulette Wow Strano Ma che dire Non c'è una roulette che ti fa scegliere quale statistica alzare Tutti i miei amici sono stati catturati da sottoposti di Bowser Ciccioni Sembra tutto molto più vivido del normale Ma che sta succedendo? Ah Certo Deve essere tutto un sogno Meno male Va Ehi Cos'è quel cosa giallo? Mi sta parlando Devo Svegliarmi Ma ora Taglio la corda Aspetta Ma dove vai? Torna qui Ok ragazzi Sembra che dovremmo rincorrerlo Non seguitemi Non so dove si sia cacciato Certo che la fa proprio Fa proprio correre con le gambe Hai ragione Lo rivedremo presto di sicuro Per ora Continuiamo nella nostra missione Ok iniziano a affonderci Ci sono entrambi in battaglia E qui dove viene tipo Tecnicamente la confusione Visto? Era molto più veloce Di quello di carta E tra l'altro hanno anche velocità RPG diverse Sì C'è la differenza tra la velocità in cui attaccano E la velocità di quando iniziano ad attaccare col turno Vabbè Ci sono già i simboli di fagioli Questa non è di sicuro uno spoiler Sono evidentemente fagioli quelli Però Non possiamo farlo In Dream Team abbiamo ottenuto la mossa Per ottenere fagioli super in fretta Per quanto puoi descrivere super in fretta quel gioco Con i 3.000 tutorial che ci sono In che mario mi gira Questo blocco qua No Vabbè Non ci se lo puoi fare di continuo Ma non me ne frega un bel niente Eh Sì grazie C'è nessuno? Ma dove sono finiti tutti? Guardate Un tanto di carta Andiamo a chiedigli Che sta succedendo Comunque Comunque Lasciami in pace Non riesco a passare La sua piattezza è comoda Quando si tratta di infilarsi in posti stretti Ma mi rende difficile Andare a salvarlo Ok Oh Sono stato attaccato Dalle spalle Ma dovrei essere comunque più veloce Oppure no Beh Beccati sto tra di danno Che dire Au Sì Sono già riuscito a farmi confondere Ok Ok Beh Ehi Guardate Sono quei baffuti Che mi hanno Accattrociato Non Non ditemi che vi siete già scordati di me Sono il gomma che avete Stropicciato Mi dici Sono Volute ore Per Stirarmi la faccia E mi dicono ancora Che ho L'aria un po' stropicciata Ricordate Quando Ho detto Che sarei tornato Con degli amici Mantengo sempre Le promesse E ora Me la pagherete Attiviamo Il super Attacco Super Cattivo Cavolo Abbiamo detto Super Due volte Siete Spacciati Oh Oh What? Oh adesso come la mettiamo pensavate non potessimo fare roba così epica e mantenete la calma non lasciate che questi pesci di carta vi demoralizzino ma per il piacere il più debole di noi vale un milione di voi parole grosse per un goombat tanto piccolo quasi con quanto una sopracciglia un sopracciglioni che si tritti ritrovi in piedi mario non puoi dar la vita a questi cefi sarà meglio andare subito a a fare il rapporto sono la città ehi ma che succede ehi fredda che sta cazzi sta tutto avvenendo in una battaglia ma chi si crede di essere con questa foglietta di carta ti schiaccieremo come carta riciclata di coso serio possiamo farti diventare anche più più piattere così aspetta ma quello non è mica mario ci siamo già spazzati di mario oggi ora tocca anche all'altro all'attacco prepara l'ultra super m coso schiacciante rotante l'avevo dito alla riunione di trovare un nome più recente comunque ti stireremo come carta da regalo aspettate un attimo sei tu quel mario di cui parlava tanto la principessa peach scusa la mia domanda era alquanto vaga non sarai per caso svolazzato fuori da un libro di recente grandioso lui gm un altro mario hanno proprio bisogno di te e quello cos'era non ho mai visto nessuno saltare così in alto e ti basta e ti bastato tenere premuto y per farlo sai quello mi da un'idea prova a calpestarli in salto sai che ti dico uno dei togli di carta mi ha dato qualcosa che potrebbe tornarci utile qui ecco è un blocco copia il blocco copia è stato aggiunto ai comandi di mario di carta perché non provi a usarlo subito che bello hai creato delle copie di te stesso così ad occhi sembrerebbe che al momento ci siano sei delle tue copie sono serio quella storia della super cartassa era un'idea nostra e tu puoi creare delle copie di te stesso quando vuoi che ingiustizia ehi non è facile come credi se mi avessi lasciato finire avresti già capito tutto dovrei rinunciare a un turno per creare delle copie ma se ti puoi questa se hai delle copie e subisci un attacco saranno le tue copie subire i danni al posto tuo ricordati bene che le tue copie non sono restanti non sono resistenti quanto te ogni volta che subisci un danno perdi copie fai attenzione ok questa è effettivamente una meccanica che adoro prima di attaccare è bene osservare il Tascreen ahah si so come funziona Mario attacca diversamente da Mario Luigi se vuoi davvero fare buon uso di quelle copie guarda la dimostrazione allinati un po' bene allora Mario, Paper Mario funziona in maniera diversa di solito Mario e Luigi possono fare due salti Paper Mario può fare salti a seconda di quante copie ha esatto così si fa che talento naturale bene e ora l'utilità del suo martello si scoprirà dopo ma facciamolo vedere intanto devo tenere premuto vero ah no non devo tenere premuto e voilà ok non era per niente utile qua ho sbagliato però era per far vedere come funziona la mia sfortuna era dobbiata due Mario ma non importa ci incontreremo ancora Mario ops credo che il nostro amico di carta non rega la foca di Luigi lo avevi scambiato per il Luigi del tuo mondo vero? a dire la verità questo è Luigi completamente diverso non per spaventarti ma faresti meglio guardare dietro di te ehi siete proprio sincronizzati ragazzi allora Mario dal mondo del libro trovato nel castello di Peach ma questo non è un nome è troppo lungo poi che ne ti diste di Mario di carta? per favore andati quella bocca col sapone brutta palla gialla coi piedi oh oh mio dio certi nomi non vanno tradotti raga fantastico d'ora in poi sarai Mario di carta sarei Paper Mario ciao al momento in questo mondo ci sono due poster il che raddoppia il cattivo gusto se poi due borse dovessero cominciare a fare cumulia allora avremo il male al quadrato o al triplo la matematica non è mai stata il mio forte mai capito no? dovrete lavorare tutti e tre insieme per salvare entrambi i nostri mondi mi pare evitare i nostri amici tornare alle loro case perfetto quando Mario occuparsi del problema risolveremo questa faccenda di non battere d'occhio Mario Paper Mario si è unita al gruppo d'ora in poi lancerete un'avventura con un trio Paper Mario può saltare con Y per far saltare tutti e tre i personaggi uno dopo l'altro basterà premere A B Y se avete bisogno di aiuto chiamatemi pure ok? e si è così che funziona e questo c'è la C per carta nel suo blocco ma è il blocco esclusivo di Paper Mario è un po' più difficile per me fare questa cosa sto giocando a questa cosa con un controllo del Gamecube e non so come sapete non so se sapete il layout ma nel Gamecube il pulsante A è in mezzo B e Y se non sono attorno adesso quindi devo fare tipo centro sinistra e sopra centro sinistra e sopra wow e ora il blocco capite perché questo blocco è così non l'ho fatto neanche apposta per l'appunto questione dei pulsanti aiuto lasciami di mandare piantala di fregnare tu verrai con me è ora che ti metta a lavorare sul serio oh no sono Mari i suoi compagni io me la squaglio dobbiamo aiutare quel tato di carta prendiamolo ok qualcuno ci aiuti salva i tato di carta pronti oh che cacchio era quel via super lagoso well ciao e tri in battaglia via comunque si adoro come hanno integrato Paper Mario in questo gioco ci sono un sacco di idee geniali che hanno fatto solamente per come funziona normalmente Paper Mario come ben sapete Paper Mario era un RPG ma la grande differenza tra Mario Luigi e Paper Mario era che Paper Mario lavorava più su dei numeri piccoli mentre Mario Luigi su dei numeri grandi in quanto attacco vita e cose varie quindi per far funzionare la cosa hanno dato a Paper Mario e ai nemici di carta delle copie è una figata come cosa altra cosa per l'appunto ovviamente il Paper Mario base che hanno preso per fare questo crossover è Sticker Star e in Sticker Star se ricordate Mario faceva un sacco di salti di seguito quindi ecco perché quel salto funziona così anche se non voglio farlo vedere perché questo è il momento migliore per mettere il martello il martello di Paper Mario funziona su tutti i nemici quasi come il martello in Dream Team nel mondo dei sogni ma fortuna che non esiste più quella cosa però funziona così si dividono equamente per nemico e come come vedete due di essi erano da soli questo può causare strane cose come vedete molti nemici continuano ad attaccare solo Mario e Luigi è giusto tecnicamente avrei anche questi questo è per i nemici singoli quindi no e si comunque Paper Mario è più veloce di tutti mi piace che ci sia sempre qualcosa di lievemente diverso tra i fratelli e Paper Mario adoro la cosa come hanno fatto grazie mille non voglio che mi rapiscano quindi se permettete resterò sempre vicino a voi i miei fratelli tolte di carta si nascondono ma voi mi aiuterete non è vero salvatevi quando li vedete vi prego non mi verrà mai naturale saltare anche a Paper Mario quando si cercano di attaccare comunque nuovo nemico ciao l'ha fatto verso l'alto quindi bene se c'è un nemico copia è molto così a toffarlo a Paper Mario perché per l'appunto i nemici copia subiscono letteralmente solo un danno alla volta finché hanno le copie quindi non importa quanto danno fai importa quanti colpi ha il tuo attacco ecco perché nemici copia e lo si fa con Paper Mario e stessa cosa vale anche per Paper Mario stesso lui subirà danni non in quanto danni ma in quanto numero di danni tra l'altro questi gum sembra che non siano programmati per attaccare Paper Mario bene e ricordate quello? si ce lo spiegherò adesso e questo avremo Paper Mario da solo in queste situazioni è pressoché come il martello in Dream Team che fa abbassare Mario e bla 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 speravo proprio di incontrare qualche viso amico questo mondo può far paura meno male che siete arrivati mi affido a voi per guidarmi verso la salvezza voilà peccato che sono molto limitata a quest'area dove Paper Mario è da solo almeno in una maniera intesa eh si poi non posso fare nient'altro ok bisogna cercare di riuscire a colpirlo più volte perché ovviamente più volte lo colpisci più copie perde tipo così due copie sono già andate vado da quello che ha ancora più copie quindi via spesso però i nemici che hanno le copie anche la copia originale ha poca vita quindi disbrazi le copie disbrazi di tutto presso che e ora l'attacchiamo con loro due anche se non facciamo molto come vedete gli abbiamo fatto seri danno ma è come se ne avessimo fatti due e ciao oh novi nemici ciao ciao cosi non mi ricordo più cucinelli se vi chiamate in italiano ok poteva attaccare tutti e tre quello attacco sì i cucinelli funzionano che stanno sempre uno sopra l'altro e vola perfetto ok se non sbaglio se non l'ho colpito lui va anche avanti va anche avanti all'attaccare Luigi in senso e vola come vedete però comunque un singolo salto di più per Mario fa davvero poco danno ecco perché le copie sono pressoché fondamentali per la sua vita livello tre per Mario vi fa anche vedere quanti livelli mancano per il cambio di classe tra l'altro hanno voluto semplificare tutto niente neanche più niente più segreti mi stava venendo la nausa a correre in tondo in quel modo tra un po' dicevo addio alla colazione per fortuna siete arrivati voi e il cornetto di carta di riso è rimasto al suo posto ogni tot che salverete avrà una sua bella frase che salverete Eh, però a volte si, fate abbastanza danno Perdono due copie alla volta Quasi a level a Paper Mario Ah Ah Delle mie parti Non si vedono molti blocchi 3D Che storia Che storia tesa È uno stato È stato un sacco divertente Credo che ci resterò qua con voi raga Eh, sì, ok Direi che vi saluto qui perché la mezz'ora siamo arrivati Quindi qua c'è tutto Non c'è prossimo anche se vi spuntate Se è piaciuto like e riusciti quanti Ciao, ciao